Giorno 23, stasera farò schiena e tricipiti alla Dorian Yates e invece per il video di oggi registrerò le varie serie di mobilità e in realtà farò anche polpacci ma non penso registrerò mai polpacci perché è noioso proprio da vedere, ho capito, mettendo nei video eccetera montandoli per quello che li monta io è veramente noioso la serie di polpacci però penso ne farò abbastanza comunque siamo già in palestra, fra un'oretta si apre e niente, registro insomma, mobilità, stretching e vediamo polpacci, boh, deciderò durante Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!